Terminato l'impegno ad amici, Rudy Zerbi si sta dedicando alla radio ed è molto attivo su Instagram. Nelle ultime ore ha dato notizia a un lieto evento, rivelando che in famiglia è arrivato un nuovo componente, la famiglia si allarga. È arrivato Kikat, un trovatello che abbiamo adottato e che ha fatto subito amicizia con Leo e Paco. Rudy Zerbi è un amante degli animali e ha deciso di prendersi cura di un gatto che era stato abbandonato in strada in preda a Randagismo.Rudy Zerbi è nato a Lodi il 3 febbraio 1969 ed è un personaggio televisivo, conduttore radiofonico, produttore discografico e disc giochi italiano. E figlio del presentatore televisivo Davide Mengacci. Rudy Zerbi ga giovanissimo segue la passione per la musica diventando disc giochi nella discoteca Covo di Nord-Est e presso Radio Tigullio. Dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l'attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Conta svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Jalapas Band. Partecipa a vari programmi televisivi, tra i quali amici di Maria De Filippi e Italia's Got Talent e allo show di Jerry Scotti The Winner Is. Lavora a Radio DJ. Da ottobre 2014 è uno dei giurati di Tussi e Cuevales video da foto Instagram e brano dell'Isla dei Queen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.